Eccoci qua, ci sono tre piani da considerare per un allenamento proficuo, felice e longevo. Il primo piano qual è? Il primo piano è l'aspetto fisico. Un buon allenamento deve gratificarti da questo punto di vista. Devi sentire che il tuo corpo ha lavorato, devi sentire che stai migliorando e devi vedere dei risultati, risultati che sono visibili e a livello di sensazione. Quindi devi sentirti più attivo, devi sentirti più scattante, devi sentirti più in forma. Secondo aspetto, l'attività deve essere divertente, deve piacerti, deve appassionarti. Devi pensare, non vedo l'ora di fare la prossima lezione, altrimenti presto o tardi stai pur tranquillo che troverai una buona scusa. E infine l'aspetto intellettuale, l'aspetto mentale. Non solo quello che fai ti deve appassionare, ma devi trovare qualcosa che ti stimola a livello intellettuale, che ti fa crescere, che ti fa evolvere, che ti dà qualcosa in più per cui tu la lezione successiva sei più bravo. Che detto così fa molto figo, ma in verità è lo stesso meccanismo di quei giochini dannati in cui sblocchi delle capacità e vuoi provarle subito nel livello successivo. Niente di nuovo sotto il sole, insomma. Niente di nuovo sotto il sole, insomma. Niente di nuovo sotto il sole, insomma.